gentili telespettatori buona giornata mario draghi ferma enrico letta con le sue idee un po' curiose come quella di tassare gli italiani sulle eredità per dare dei soldi ai diciottenni per impedire che vadano all'estero ma è così matteo salvini dice draghi e come baresi vi ricordate il mitico baresi del milan il baresi degli anni 80 nel milan stellare quello di reichard van basten gullit baresi tassotti maldini chicco chicco evani ricordate un po galli il milan stellare c'era baresi che era un totem baresi fermava tutti sia nel milan che in nazionale e così matteo salvini fa questo paragone calcistico che voi permetterete draghi come baresi matteo salvini parla di quel genio di enrico letta vuole togliere i soldi agli italiani draghi gli dice enrico l'italia è in recessione stiamo dando i soldi agli italiani con i decreti e tu vieni fuori tassiamo gli italiani per dare i soldi ai diciottenni roba da non crederci matteo salvini parla di enrico letta e non poteva ricevere miglior assist per farlo dalle parole di mario draghi che sulla questione tassa ha rimproverato il segretario del partito democratico il leader della lega presente alla presentazione del volume di pasquale ciacciarelli ripartenza o apocalisse l'italia ai tempi del covid ha commentato così le dichiarazioni del premier mario draghi dice quel genio di letta lancia la tassa di successione ma l'italia non è parigi dove era abituato a cambiare champagne le tasse se le tiene lui oggi draghi lo ha fermato come un grande libero alla baresi l'ultima cosa di cui hanno bisogno adesso gli italiani sono nuove tasse d'accordo quindi con il presidente draghi e su questo siamo per fortuna tutti d'accordo immaginate se ci fosse stato giuseppi giuseppi eletta senza il centrodestra giuseppi avrebbe detto per tenersi buono la sinistra perché lui ambiva diventare un senatore di sinistra interessante questa proposta è immaginatevi se ci fosse stato il giuseppi dice salvini noi oggi come lega abbiamo proposto la nostra idea di taglio delle tasse prudente concreta immediata ed efficace imu sugli immobili sfitti iva sui beni di prima necessità e irpe fa partire dal ceto medio sono allucinato che invece il segretario del partito democratico possa pensare a una nuova tassa non è il momento di togliere soldi dalle tasche degli italiani ma il momento di rimetterli mario draghi anche detto che occorre mantenere la progressività nella riforma del fisco e salvini pure su questo punto è assolutamente d'accordo la flat tax garantisce la progressività con deduzioni e detrazioni ci sono due visioni del mondo differenti noi proponiamo il taglio delle tasse poi c'è il pd che chiede di aumentare le tasse di successione che è una tassa su una tassa una tassa su una tassa perché voi avete 10.000 euro sul conto corrente quei soldi lì sono già stati tassati ci avete pagato già le tasse già le tasse se poi voi li volete dare a vostro figlio come successione lo stato vuole altri soldi vi porta via gli altri vostri soldi sui quali avete già pagato le tasse quindi ha ragione salvini quando dice è una tassa su una tassa ricorda dice il capo della lega il motto bertinottiano facciamo piangere i ricchi qualcuno ha pregiudizio nel confronto del privato vogliamo creare più lavoro e fare impresa in italia ma serve burocrazia normale una giustizia che ti dà ragione massimo in due anni più cenere un sistema fiscale adeguato io penso che la flat tax sia attuale e rivoluzionaria conclude salvini dal tempio di adriano a roma fa ecco al capo della lega anche tutto il centro destra per forza italia interviene con durezza roberto occhiuto capogruppo azzurro alla camera che dice fin tanto che al governo ci saranno forza italia e il centro destra enrico letta si scordi qualsiasi irricevibile aumento di tasse il segretario dem vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani lo dica ai cittadini in campagna elettorale e proponga al paese un esecutivo di sinistra con al primo punto programmatico l'aumento della pressione fiscale anna grazia calabria di forza italia legge la proposta di letta in una chiave specifica e dice prima il voto ai sedicenni ora la dote ai diciottenni da fidanziare con una tassa di successione la rincorsa del segretario pd letta al voto dei giovani è un goffo susseguirsi di butad ideologiche io vi ricordo che forse probabilmente non nessuno ha detto a enrico letta che i diciottenni i sedicenni su più che altro i sedicenni visto che lui vuole dargli il voto indovinate perché ovviamente lui crede che dando il voto a tutti i sedicenni e ai diciassettenni lui ha più voti in realtà in realtà vi dico che tutti i sondaggisti sono d'accordo nel dire che secondo i loro sondaggi i sedicenni voterebbero in maggioranza per il centrodestra quindi farebbero aumentare il voto i voti per il centrodestra infatti quando qualche settimana fa letta è venuto fuori con il voto ai sedicenni salvini ha detto subito sì sì va bene votiamo per il voto ai sedicenni proprio perché salvini sapeva dei sondaggi e enrico letta probabilmente probabilmente no probabilmente se no il voto ai sedicenni perché uno dovrebbe proporre il voto ai sedicenni probabilmente lui è rimasto a dei sondaggi magari di 30 anni fa che dicevano che i sedicenni avrebbero votato per la sinistra o voterebbero per la sinistra oggi no oggi le cose sono cambiate il paese non è più a sinistra ci sono tante televisioni tanti giornali che sono ancora ideologicamente schierati a sinistra ma la gente è a destra questo è l'incredibile giornali e gran parte delle televisioni che parlano un linguaggio di sinistra mentre la gente parla un linguaggio di destra immaginatevi se l'informazione fosse equa che quanti voterebbero per il centrodestra io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti